... Seconda del convegno, una minima di quattro anni sul miglio, cavalli affidati ai gentlemen, il forfè di virtuoso aveva il numero uno, ne rimangono in undici. Veri di casei con il cicca in salchi, numero cinque, questo figlio di Zolaboco, il più gettonato. Più che buono l'allineamento, sempre più bravi questi gentlemen. Arretrato, vernaccia, via la macchina. Villacco getta dal largo proprio, tenta di impegnare i cavalli all'interno, la Villani insiste, vuole il comando ma gli rientra Veri di casei, poi velarda la Sol. Freeway per la Villani in 13 e va al comando. E così lunga fila indiana per questo Naglou, allenato da Siddi, ma in salchi c'è lei, la passionaria Villani, reduce da un tripolo in quel di Taranto. 28 e mezzo sul mio cronometro. Andatura sollecita, stiracchia anche un po' e per il momento non ammette interferenze. 600 che se ne vanno in 43 e 3 da 1, 12 e 2. Cavalli che affrontano la piegata, con Villacco sempre a fare ottima andatura. Si completa il mezzo miglio iniziale, un po' di respiro, in 59 e mezzo, 16 e 2 di frazione. Ci fa notare a largo e punta un po' i ritardatari, ma Veri di casei anticipa l'idea del numero 6, Vanu. Chilometro nell'ordine del 14 e mezzo, pochi argomenti per la Villani con il suo allivo, passa senza colpo ferir sul velluto Veri di casei e prende vantaggio. Cavalli sulla curva finale, 13 e 9 eloquente, fanno 1, 28 e 4, i tre quarti di miglio. Vanu attacca Villacco Jet, si va al completamento e la curva finale, Veri di casei fa un canter, retta d'arrivo, padrone di situation, lui è il ciccacicca. Viene via la grande lava, arica Jet con farina, Vanu è ancora secondo e poi Belbet Line, che conservano la seconda e terza moneta. Vittoria per dispersione in 1,58, 1,14 e 3 di Veri di casei. Salvatore Borrino ormai è diventato un catch eccezionale come training, ma in Sarchi c'è lui, il ciccacicca, ciccacicca nazionale, totalizzatore, che chiacchiera appena 1,59, regalato se possiamo dire di come ha vinto. Vanu alla grande, ottimo per la prossima anche Belbet Line. I numeri così dicono 5 per la vittoria, 6 per il secondo, 9 per il terzo. Linea allo studio.